Colpo di mercato di livello per la Deflex Pistoia, che oggi ha perfezionato l'ingaggio della guardia Michael Jenkins, classe 1986. Lo statunitense, 191 cm x 88 kg, è nato a Kingston, in North Carolina, ed è reduce da una positiva esperienza in Serie A greca con l'Aris Salonico. In casacca giallonera ha messo a referto 11,8 punti, 3 rimbalzi e 2,3 assist di media in campionato, disputando anche la Champions League. Il giocatore, prodotto di Wintrop University, ha già disputato due stagioni in Italia. La prima con Brescia nel 2012-2013, quando fu avversario proprio di Pistoia nella finale playoff di Lega 2. La promozione, come tutti ricorderanno, fu conquistata da Biancorossi, ma la stagione successiva Jenkins approdò comunque in Serie A indossando la maglia di Cantù, dove fece registrare 10 punti in media a partita. Successivamente, il giocatore si trasferì nel massimo campionato turco, dove rimase per due stagioni tra Istanbul e Ankara, prima di accasarsi all'Aris Salonico. Jenkins è già a Pistoia per svolgere le visite mediche e sarà regolarmente a disposizione di coach esposito fin da subito. Resta da capire se adesso la società biancorossa deciderà di tagliare uno degli stranieri già presenti nel roster. Il regolamento, infatti, prevede che a referto ne possano andare solo 5.